bello per tutti voi ragazzi eccoci qua con un vloggone che è una cosa che non facciamo da un bel po perché perché abbiamo tante novità da dirvi e soprattutto ci avrete anche la possibilità di incontrarci finalmente non a roma giusto amici esatto esatto infatti l'ultimo vlogone l'abbiamo fatto per robic questo giro ormai io vi voglio solo che voglio tutti non voglio c'è nessuno deve di niente perché sempre a roma sempre non è vero sto giro siamo a bari saremo a bari saremo al man games che si terrà precisamente al pala sport pala capurso alla sport pala cala a gioia del colle e saremo lì il 27 e il 28 dicembre e quindi dovete venire perché se no sempre a roma sempre non è vero quindi voglio tutti perché così si abbracciamo tutte cose belle pure quelli di roma devono venire saremo saremo purtroppo io non ci sarò ci saranno solo fracchia e manu perché per questioni di distanza lavorative tutta una serie di altri qui qui però due terzi dei retro players esatto però è la prima fiera quindi venite dove ci al man games il 27 e il 28 alla fiera del fumetto dei videogiochi e dei youtuber sicuramente un po di spazio anche per noi poi esatto troverete tutto in descrizione la pagina facebook del ufficiale dell'evento e se siete iscritti alla pagina facebook comunque vi diremo ehi siamo appena arrivati a stazione o siamo qui e potete tenere partecipate numerosi nei giorni prima il che vuol dire natale perché il 28 e dopo cominceremo a scrivervi dove ci troviamo e tutto quanto perfetto e questa è andata quindi venite 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 se non venite siete dei meschini siete persone cattive perché ci siete sempre di andare in giro per l'italia l'unica volta che ci andiamo non vi è nessuno ok quindi manu invece da gennaio cominceremo a fare delle piccole collaborazioni quelle che avete già visto con altri youtuber con altri amici e esattamente e ci saranno 4 top 10 in più al mese nel senso che rimarranno le solite 4 però alle 6 e mezza usciranno le top 10 in collaborazione con questi amici youtuber doppietta quindi non mancate l'appuntamento alle 6 e mezza mi raccomando e niente un doppio appuntamento le volete più un doppio appuntamento esatto esatto sempre per accontentarvi perché ogni volta ci dicevate ma perché non ne fate due settimane invece è così ne facciamo due a settimana e la collaborazione e la classica top 10 normale che facciamo tutte le domeniche quindi mi raccomando seguitele perché se ci fate fare questo lavoro e poi non le seguite vi vengo a prendere uno per uno poi non è finita senza dighi quella bellissima notizia che tutti attendono esatto e da gennaio oltre alla mitica novità di due top 10 a settimana sempre di domenica poi alla fine e ci sarà anche una grandissima novità noi nel retro players punto it abbiamo deciso di aprire un secondo è stato chiamato retro players stage second stage second stage scusate è fatto anche confondere stavo per venire dietro nella dietro bagelante vabbè comunque retro players second stage vi lasciamo il link in descrizione al momento è ancora vuoto perché abbiamo intenzione di partire da gennaio con i nostri video nuovi con tutto quello che andrà in quel canale e giustamente voi vi starete chiedendo che cazzo ci andrà in quel canale? tutto quello che ci pare esatto tutto dai gameplay ai vlog ai video tipo boh qualcosa ai video boh qualcos'altro e a tutto quello che nel canale principale non possiamo mettere tutte le volte che ci chiedete ehi fate un gameplay su questa cosa non lo possiamo fare perché sul canale principale che è un luogo pulito ordinato e sistemato non vogliamo farli perché rovinerebbe tutta la vendita sì abbiamo abbiamo un canale con un palinzesto quindi perché rovinarlo cioè esatto e allora abbiamo deciso perché non abbiamo un secondo canale dove poter fare tutto quello che ci piacerebbe fare perché voi continuate a chiederselo ma che non possiamo fare grazie alla scaletta sul canale principale abbiamo detto apriamolo e l'abbiamo detto eccolo così è nata proprio così è nata proprio ehi perché non l'abbiamo ok va bene l'abbiamo fatto abbiamo già pronta gran parte della cosa come sigle grafiche nuove sigle ragazzi quello che esatto ci manca solo un'unica cosa la presentazione ed è per questo che abbiamo deciso di far partire tutto a gennaio quando avremo la presentazione cioè a gennaio partirà anche tutto il contenuto dei video che saranno senza scaletta quindi che ne so vi iscrivete e boom spunterà ma abbiamo già detto che nel secondo canale ci saranno anche gli admin della pagina facebook si esatto sarà un canale dedicato proprio a quello che non possiamo fare nel primo canale quindi collaborazioni un po' più alla carlona spazio per tutti dai esatto esatto quindi quindi miei cari tenetevi pronti che saranno un sacco di video più divertenti meno seri si diciamo vedrete un po' meno di qualità rispetto al primo canale ma è proprio per quello che abbiamo aperto un secondo canale per sentirci liberi di fare quello che ci pare con i mezzi che ci pare nelle modalità che ci pare come cazzo ci pare tipo se volevo montare una telecamera sulla testa del gatto di fracchia possiamo farlo e vedere cosa fa durante la giornata tipo cose sataniche quindi ragazzi riassumendo proprio veloce 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 tutto insieme al manga games 28 trovate il link in descrizione con tutte le info dove si svolge quando si svolge tutto e seguiteci anche sulla pagina facebook dove vi diremo dove siamo quando lo siamo e perché lo siamo quindi così poi una top 10 in più a settimana da gennaio quindi con tutte in collaborazione con altri youtuber quindi una alle due e mezza e una alle sei e mezza e ultimo ma non per importanza apriremo un secondo canale che sarà sempre attivo da gennaio ma potete già incominciare sulla fiducia a iscrivervi da adesso trovate anche quello il link in descrizione e il link sopra il bannerino del nostro canale youtube con Reprobayers e con Spayage esatto ovviamente sarà anche quello attivo da gennaio vi ringraziamo perché mi pare che abbiamo detto tutto salutiamo tutti quelli che ci hanno chiesto di salutarli purtroppo questo vlog è velocissimo ma non è un fuck you time li salutiamo nel fuck you time esatto nel fuck you time quindi grazie a tutti per averci seguito un abbraccio bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi Grazie per la visione!